Resta invariato il numero dei positivi tra quarantena domiciliare e ricovero in ospedale nelle ultime 48 ore, sono in tutto 38, da questi il primo caso a Villalba. Sono 8 le persone ricoverate e 6 i pazienti provenienti da fuori provincia, i due che provengono dai paesi della provincia sono uno di Butera e uno di Gela. Due sono a Caltanissette in quarantena domiciliare, uno a Butera, uno a Mazzarino, uno a Riesi e uno a Villalba. Sono 24 i pazienti positivi in quarantena domiciliare a Gela, sono 244 i contagi dall'inizio della pandemia e 187 i guariti ufficialmente, 13 le persone decedute.